Rieccoci Carlo, noi ci colleghiamo quando è possibile, cerchiamo di metterci d'accordo e ci colleghiamo. Sarebbe da fare più spesso, però poi gli impegni reciproci ce lo impediscono, si fa quello che si può. Da dove partiamo oggi con questa nostra piccola discussione? Da dove vuoi tu? Ma io mi sono chiamato un po' fuori, infatti anche da Facebook non voglio pubblicare più niente, l'ho anche scritto. Mi rendo anche conto che è difficile chiamarsi completamente fuori. Io non è che vedo tante cose, però magari gli amici mi mandano dei link e allora la sera poi magari mi riguardo. E mi rendo conto che c'è un bel po' di confusione in giro, veramente tanta. E quindi ogni tanto magari mi permetto di fare qualche video per tentare di mettere davanti alla situazione per quello che è. Io non so come tu la pensi, ma cosa ne pensi di questo momento storico, politico, pre-elettorale? Non è mai successo che ad agosto si fosse in campagna elettorale, partiti nuovi, vecchie, situazioni, antisistema, informazione che si confonda. Adesso c'è tanti piccoli editori che si sono candidati e una volta lo chiamavano il conflitto di interessi, pare che sia scomparso anche il conflitto di interessi. Io te lo dico, io la vedo malissimo che chi fa informazioni poi si candida. Ma decidi che cosa vuoi fare, perché nel momento in cui tu ti candidi non sei più imparziale. E inutile mi viene a dire, no ma io mi chiamo fuori perché metto là giornalisti, ma scherziamo. Ma questa è una roba insomma che neanche i pollici credono, questo almeno secondo me. Vabbè ti lascio la parola dai. No, no, intanto è sempre un piacere rivederti e sono contento di parlare ogni tanto con te, anche perché si parla poco. Quindi se c'è la possibilità di esprimere il proprio punto di vista in tranquillità, senza farsi dominare dalla passione del momento, ma quindi potendo riflettere con più calma è tanto di guadagnato. Molte volte è preferibile non dire niente, sai, si dice, gli antichi saggi dicevano che la migliore parola detta è quella taciuta, no? E tuttavia, avendo la possibilità di riflettere, anche di registrare non in diretta queste nostre conversazioni, è tutto molto più semplice e fa piacere esprimere la propria opinione. Prima di condividere alcune risposte al tuo discorso introduttivo, permettimi di farti una domanda, se puoi rispondere ovviamente in pubblico. Come mai hai deciso di rimuoverti definitivamente da Facebook? Se puoi rispondere, non voglio... Beh, ci sono più ragioni. La prima, perché questo sembra strano, io lo dico poi naturalmente ognuno cercherà di informarsi di più, perché il pubblico di Facebook non è lo stesso di YouTube. Facebook è una specie di gran bazar, dove si passa dal gattino alla filosofia, alle frasi sdolcinate, quindi non trovo che sia, proprio dal punto di vista di come è organizzato, l'ideale per comunicare. Questo a mio avviso. Secondo, trovo che Facebook sia ancora peggio di YouTube. Cioè, ti penalizza e quindi io sto sempre attento, oppure ho timore che questa cosa la posso pubblicare, quest'altra no, le penalità le... Cioè, proprio no, assolutamente. Non voglio, non voglio... Poi si ricevono strane richieste d'amicizia, per esempio, no? E su YouTube non c'è un discorso d'amicizia. Io metto là, a volte metto che puoi commentare, a volte no, ma sono decisioni che prendo io, perché tanto il canale è mio. Invece a me su... Ti mandano dei link, sono andato a vedere e mi sono beccato due o tre virus, per esempio, no? Sì. Direttamente da Facebook. Mi hanno mandato anche in tilt il computer più volte. Quindi lo trovo un gran bazar dove c'è tutto e dove si passa da un argomento all'altro. Quindi, quando si vede qualcosa, non è detto che si sia proprio mentalizzati su quella cosa. Invece su YouTube uno magari la va a cercare espressamente. Trovo che su YouTube ci sia maggiore consapevolezza da parte di chi vede il video rispetto a Facebook. Questa è la mia valutazione. No, no. Oggettivamente ognuno di noi, essendo vasta ormai la scelta del social network, così come vengono chiamati, può scegliere quello che più gli aggrada, quello che maggiormente rispecchia, anche le proprie necessità. Ha introdotto alcuni concetti, come sempre, interessantissimi. Su questo permettimi di fare alcune riflessioni. Punto primo, una questione che poi riguarda in primo piano il mio lavoro del quotidiano, la sicurezza informatica. Certamente l'uso dei social network apre delle porte all'esterno, diciamo così, che pongono dei rischi seri. Dei rischi seri per la sicurezza. L'ideale sarebbe utilizzare i social network solo su periferiche, quindi su smartphone, o tablet, o personal computer, o notebook, in cui si fa solo quello, no? Per evitare qualsiasi poi compromissione del sistema, soprattutto se si hanno dei dati importanti, dei dati riservati, e anche dei database. Al giorno d'oggi, molte operazioni di hacking vengono svolte per acquisire dati. I dati hanno un valore quasi inestimabile al giorno d'oggi. Quindi, attenzione alla sicurezza, non aprire mai link che vengono inviati da terzi. Molto spesso sono anche dei link accattivanti, scritti in maniera amichevole dai robot, dai software che fanno questo. Quindi io potrei mandarti, se sono infetto, un messaggio tramite Facebook, in cui ti dico ciao Elia, ho trovato su internet questo video dove siamo insieme, e tu vai a cliccare, e lì comincia poi una serie di percorso, un percorso particolarmente ostico per la sicurezza. Vabbè, ci ho detto. Ha introdotto ovviamente anche il discorso di queste piattaforme da un punto di vista editoriale. Sì, molto triste, molto triste denunciare che questi signori dei social network, delle grandi piattaforme, svolgono la loro professione con grande ipocrisia. Che significa? Significa che loro non si dichiarano editori legalmente, pertanto tutto ciò che viene pubblicato su queste piattaforme fino a un certo punto non è passibile di coinvolgimenti da parte di queste grandi compagnie in sede né penale né civile, tuttavia loro si comportano al contrario da editori per quanto riguarda la censura delle informazioni. Esatto. Quindi questo è un atteggiamento molto ipocrita. Ovviamente il legislatore non interviene in maniera adeguata in questo stato di fatto ed è una situazione veramente triste perché se vuoi fare l'editore devi assumerti anche le responsabilità dell'editore. Non puoi ipocritamente comportarti da editore o da direttore di testata solo per censurare. Quindi tu non sei più super partes, non sei più una piattaforma che ospita contenuti e si chiama fuori da ogni bega legale. No, attenzione. Tu stai intervenendo con una vera e propria forma di censura. E questo è un altro aspetto che mi interessava approfondire appunto degli spunti che tu hai lanciato. terza cosa sempre altrettanto grave è il discorso che spesso e volentieri queste grandi piattaforme si affidano a società terze le quali assurgono non si sa da dove non si sa come non si sa perché a depositari della verità. Faccio un esempio è molto diffusa nella terminologia da social network questo sle questo spot fact checker no? Il fact checking che cos'è questo fact checking? Non è altro che la censura che viene apposta da società terze che si autodesignano depositari della verità e che infine però sono sono delle persone che molto spesso si dimostrano divulgatori di fake news quindi di divulgatori essi stessi di grandi falsità quindi diciamo effettivamente decidere di fare informazione sui social network è sempre molto molto faticoso molto faticoso soprattutto da un punto di vista anche della della libertà personale perché in verità non si è liberi e qui introduciamo un quarto concetto che secondo me è anche fondamentale la nascita nella psicologia delle persone che usano social network di un mostro questo mostro si chiama forma di autocensura quindi io in principio dico a me stesso questo non posso pubblicarlo perché altrimenti il social network mi crea problemi e questa è una una intrusione grave nella psicologia delle persone perché autocensurarsi a queste circostanze in queste circostanze non è certo una cosa naturale attenzione questa mia breve riflessione non vuole essere assolutamente una condanna alla censura che anzi come ben sai la censura fatta da chi se lo può permettere è una forma santa che è stata utilizzata per esempio dall'inquisizione per centinaia di anni al fine di tutelare la mente delle persone più fragili delle persone più deboli più facilmente condizionabili quindi attenzione qui non si sta emanando una sentenza contro la censura che anzi è molto favorevole per la crescita spirituale intellettuale delle persone ma dipende da chi pone in essere questa censura quando il demonio censura le persone che tentano di fare un lavoro sapiente nel loro piccolo saggio allora capiamo che in questo caso la censura non è una cosa buona inutile dire che questi signori dei social network non hanno alcuna solitamente non hanno alcuna ragione nelle loro censure quindi capisco la tua scelta certo è che invece chi usa i social network nella fattispecie facebook per casomai parlare delle proprie cose pubblicizzare un piatto di cucina piuttosto che far vedere le foto delle vacanze così sono scelte individuali io preferisco evitarle però ci sono tante persone che trovano soddisfazione in questo ne saranno poi loro vittime di tutta la condivisione che fanno della propria vita privata pensiamo per esempio anche ai tanti furti negli appartamenti lo dico da operatore nella sicurezza informatica voglio dire molte persone pubblicano le foto delle vacanze contestualmente chi li segue sui social può avere degli strani pensieri e tante volte può anche passare a fare una pulizia delle case rimaste incustodite ma ci sarebbe tanto da dire tornando alla tua premessa introduttiva scusa se parlo troppo forse no no veramente questione politica nota dolente nota dolente in Italia ormai sin dal dal periodo noi la chiamiamo politica per intenderci ma non è politica la politica è un'altra cosa sì sì ma sicuramente la politica è un'altra cosa sai io ricordo che negli anni 90 all'inizio degli anni 90 c'è stato un partito che ha fatto una grande battaglia alla partitocrazia questo partito si chiamava il movimento sociale italiano ma era esso stesso partitocrazia quindi si si fa sempre un gran parlare una elargizione di spot contro la partitocrazia ma in realtà la politica va fatta utilizzando delle forme aggregative che diciamo per convenzione noi chiamiamo partiti quindi alla fine i due elementi vanno sempre connessi è molto difficile riuscire a separarli comunque sia è una situazione partitocratica a mio avviso molto grave che si colloca in un contesto altrettanto grave noi veniamo fuori da una pseudo pandemia stiamo vivendo e non ne siamo sicuramente fuori da un punto di vista dei diktat di sistema che continuano a pervenire e perverranno in maniera massiva sicuramente in futuro una situazione in cui si è deciso terzi a noi ignoti hanno deciso di rovinare il nostro fantastico rapporto sia commerciale che amichevole che abbiamo sempre avuto con il popolo russo e con l'Oriente a noi più prossimo e in questo contesto in cui diciamolo chiaramente le nazioni che dichiarano di far parte dell'Unione Europea si sono in maniera masochistica privati anche della proprietà della propria moneta siamo veramente alla deriva più totale questo contesto che stiamo vivendo in piena estate che poi di campagna elettorale è sicuramente una novità una novità che potrà favorire alcuni contesti particolarmente privilegiati quindi stiamo parlando dei classici partiti che ormai a partire dalla sicuramente dalla cosiddetta sinistra dominano dominano a livello burocratico tutta la nomenclatura che è presente nella nostra nazione un contesto anche pauroso da un punto di vista propagandistico perché gli spot che vengono fatti dai partiti dai principali rappresentanti di questi partiti sono veramente agghiaccianti degli spot fuori dalla realtà sicuramente fuori da quello che è il contesto della vita quotidiana di tutti noi ovviamente non sto facendo delle illazioni di becero populismo sia chiaro ma è ovvio che se tu ti collochi in un contesto in cui non hai più proprietà della tua moneta tutti i tuoi spot rimangono fini a se stesso quindi anche Berlusconi per dire per citarne uno attenzione qui non sto puntando il dito contro Berlusconi piuttosto che contro Letta che contro Grillo a me non interessa io preferisco chiamarmi fuori da queste da queste dinamiche ma anche Berlusconi che promette di portare le pensioni a mille euro beh io ricordo che lui le portò a un milione quella fu una promessa che mantenne se non ricordo male o quantomeno le persone a me vicine anziane che avevano una pensione al di sotto del milione di lire io ricordo che furono felici perché la loro pensione fu portata a un milione di lire questo è un ricordo che ho degli anni 90 ma promettere di portare attualmente le pensioni a mille euro è sicuramente fattibile ma come utopisticamente creando una una sorta di di fumo di cortina fumogena ma in realtà se io ti sto aumentando le pensioni e non avendo la possibilità di gestire la mia moneta da qualche parte questi soldi devono essere devono essere sottratti no? certo e quindi questo è solo per fare un esempio per poi non io fossi un elettore cosa che non sono perché seguo il famoso non expedit di 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 memoria di papa pio nonno poi ripresa da leone tredicesimo poi ripresa da papa santi decimo quindi non conviene non conviene e riprendendo poi le parole di don giacobo margotti non conviene essere né eletti né elettori lui ne sapeva qualcosa perché pur avendo vinto con brogli fu privato della sua carica quindi lo dico da non elettore se fossi un elettore farei sicuramente causa al movimento 5 stelle perché il movimento 5 stelle con il suo fare non puoi fare causa sì lo so no no ma perché c'è anche la cosa funziona in questo modo cioè una volta che è stato eletto deputato il senatore è sganciato dalla volontà di chi lo ha eletto sì sì è chiaro ecco quindi non potreste nemmeno fare causa fammi perdere fammi fammi dire no ma un attimo solo su questa roba allora voi te la spieghi allora noi siamo andati vicino alla formazione di anzi no in qualche caso è stato fatto partiti di cattolici altri hanno deciso di non di non di non costituire un partito perché non avevano l'organizzazione per raccogliere le firme quindi è stato un problema logistico di tempi ma la volontà c'era allora che cosa succede sul versante cattolico cos'è questa cos'è questa confusione che impera e poi ho sentito dei cattolici consigliare di votare per rizzo comunista sì sì allora posso rispondere o vuoi proseguire no 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 rispondi ci mancherebbe ti faccio le domande finché tu risponda se sono solamente io che vedo che vedo delle cose strane oppure queste cose ci sono e in qualche modo bisogna pure dirle sì allora torno al discorso 5 stelle perché perché è una mera provocazione ovvero è stato un movimento o un partito fortemente con un orientamento fortemente popolare che ha raccorto milioni di voti si parla di quasi 10 milioni di voti se non ricordo male sulla base di alcune promesse promesse che non solo sono state disattese ma di cui il movimento 5 stelle si è fatto tranne che per la misura del del cosiddetto reddito di cittadinanza che in realtà è una tangente elettorale parliamoci chiaramente tangente con i nostri soldi però con i soldi di noi che paghiamo le tasse ma è proprio come principio che è sbagliato comunque lasciamo perdere perché ne ho parlato in altre sedi quindi a prescindere a prescindere per come è impostato sicuramente sbagliato certo quando la società era cristiana le forme di assistenza per i poveri ci sono sempre state ma non in questa misura e non sotto forma di tangente elettorale quindi tu mi voti perché io ti pago mensilmente con un con un reddito che che non non ti è dovuto parliamoci chiaramente ma non solo quindi il Movimento 5 Stelle ha disatteso tutte le proprie promesse non ne avevamo dubbi ma ha agito al contrario quindi in campagna elettorale no euro al governo favorevoli all'euro in campagna elettorale contro l'Europa al governo favorevoli all'Europa in campagna elettorale pro oriente prossimo quindi pro Russia pro Cina al governo totalmente all'opposto di questi esempi se ne potrebbero fare centinaia quindi in in linea di di principio questi signori hanno creato un problema gravissimo per chi è si ritiene elettore ovvero sia hanno tradito in maniera così palese una un tradimento tale come non era mai accaduto nella nella storia della sedicente Repubblica italiana e quindi loro sono colpevoli di tanto se ci sarà una grossissima fetta di cittadini che non si recreerà alle urne lo si deve anche a questo grosso tradimento messo in atto dal Movimento 5 Stelle ciò detto vengo alla tua alla tua provocazione però scusa che il Movimento 5 Stelle fosse quello che si è poi rivelato essere cioè non deve meravigliare io personalmente era dal 2013 ho fatto penso 50 60 70 80 forse anche più video in cui mettevo in guardia sul fatto che i 5 Stelle erano in realtà un movimento creato dal sistema stesso ed era evidente perché io non è che lo dicevo semplicemente lo dicevo e basta io portavo delle prove c'erano dei segnali c'erano dei sintomi c'erano delle cose ben precise affinché si dicesse questo come oggi quando dico questi nuovi partiti lasciateli stare perché sono come i vecchi se non peggio non è che lo dico perché mi sveglio la mattina e così mi gira c'è un'analisi dietro anche molto approfondita scusa volevo solo dire questo ne abbiamo già parlato in passato a differenza di te io mi feci ingannare sul principio poi grazie agli approfondimenti di teologia politica che mi furono consigliati da sacerdoti dell'istituto io dell'istituto Materboni Consiglio cominciai ad informarmi come si deve a studiare per qualche anno solo ed esclusivamente diciamo concentrandomi maggiormente sulla teologia politica mi è stato tutto molto più chiaro quindi bene hai fatto tu a provare a denunciare sin dall'inizio questo stato di cose alcune persone non se ne sono accorte come me sul principio parlo dei primi anni prima ancora delle elezioni e quindi diciamo onorevolmente io feci pubblica ammenda scusandomi con le persone che casomai avevano potuto trarre un inganno da questa mia scelta personale comunque sia andiamo avanti l'essere umano ha un intelletto ha una volontà il nostro intelletto dobbiamo esercitarlo attendere sempre alla verità la nostra volontà dobbiamo esercitarlo attendere sempre al bene e quindi speriamo in futuro di non commettere gli stessi errori almeno per quel che mi riguarda venendo alla tua provocazione quindi che fine ha fatto il cattolicesimo in politica ecco allora intanto che fine ha fatto il cattolicesimo essere cattolici significa osservare ciò che c'è scritto nel catechismo non si è cattolici solo per battesimo ma si è cattolici anche soprattutto se si osserva la legge di Dio legge di Dio che noi abbiamo magistralmente sintetizzato grazie al catechismo nella fattispecie il catechismo di San Pio X che diciamo è uno dei migliori secondo il mio punto di vista quindi che fine hanno fatto i cattolici nella società cattolici nella società è difficile trovarli è difficile trovarli perché oggi si tende oddio non solo oggi da un centinaio di anni a questa parte si tende a voler essere cattolici o a voler essere un qualsiasi cosa pur pretendendo di non seguire quelle che sono le leggi del cattolicesimo come per esempio oggi tante persone negli ultimi anni hanno preteso di essere chiamate per dire virologi quando in realtà non hanno seguito nulla di quello che la vera scienza loro aveva insegnato quindi c'è tanto individualismo c'è tanto usiamo una parola comune c'è tanto relativismo c'è tanta tristezza in politica peggio ancora perché la politica che cos'è? la politica appunto viene fatta dai partiti i partiti sono un'aggregazione sociale composta da uomini quindi se non ci sono cattolici in società peggio ancora saranno nei partiti dove purtroppo l'interesse partitico supera quello del singolo spesso e volentieri quindi se già prima non si è abbastanza tenaci da difendere almeno pubblicamente la propria fede quando si è soli figuriamoci in un contesto in cui ci sono delle dinamiche molto più grandi del singolo individuo possiamo fare qualche cenno storico si è preteso di fare politica cattolica in Francia alla fine del secolo 1800 con Marx Sanieno il suo Sion dovrebbe significare il solco movimento ovviamente giustamente condannato da San Pio X con il suo famoso documento Notre Charge Apostolic questi stessi principi furono incarnati dalla democrazia cristiana italiana la prima democrazia cristiana partito popolare no prima ancora prima ancora prima ancora che fu condannata ovviamente dalla chiesa e di cui abbiamo anche un bellissimo documento se non ricordo male di Papa Leone XIII in cui egli spiega cos'è una vera democrazia cristiana ciò che si proponeva in Italia non era né democratico né cristiano se non sbaglio fu Romolo Murro se non ricordo male Romolo Murri il fondatore di questa mostruosità adesso ho dei ricordi sì 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 esatto condannato anche costui scomunicato e così via ci hanno riprovato con il partito popolare il famoso ben noto Don Luigi Sturzo con il suo appello ai liberi e forti dovremmo essere intorno al 1918 1919 e questo sacerdote io non entro nella sua nella sua volontà personale però comunque sia con questo appello lui fonda pretende di fondare un partito cristiano ma in questo appello ai liberi e forti in cui chiamava raccolta le menti cristiane cattoliche del paese non c'è un accenno a Cristo e non c'è un accenno alla dottrina sociale della Chiesa loro millantavano che ci fosse si millantavano ma di fatto non c'era non c'era ma infatti se tuttora si va a leggere su Wikipedia si vanno a cercare informazioni su Wikipedia che non è un'enciclopedia ma è una sorta di social censurato alla Facebook maniera anzi è un antesignano Wikipedia della censura operata dai fact checker di oggi si trovano tante informazioni accattivanti viene descritto questo movimento di Don Sturzo come un grande partito cattolico ma in realtà di cattolico aveva ben poco e ripeto basti pensare che nella bolla di fondazione di questo partito non c'è un riferimento a Gesù Cristo è un movimento come attenzione se ne stanno formando tanti oggi o se ne sono formati in cui si fa solo ed esclusivamente leva su quelle che sono le forti sensazioni collegate alla legge di natura ok ma non bastano benissimo bene che si prendano le difese della legge di natura bene che si prendano le difese dei lavoratori bene che si cerchi nella migliore maniera di tutelare la vita sicuramente ma non basta e noi sappiamo benissimo dall'esperienza di tutti i secoli della nostra umanità che tante persone di buona volontà sono cadute proprio perché hanno deciso di escludere Cristo dalla loro vita dalla loro dottrina partito popolare che anch'esso fece una brutta fine per poi arrivare alla rifondazione della democrazia cristiana rifondazione della democrazia cristiana con una lavata di panni quindi quando il popolo aveva anche dimenticato la condanna della chiesa a questo movimento che si chiamava democrazia cristiana non a caso Sturzo scelse o chi per lui scelsero partito popolare non democrazia cristiana perché c'era una condanna una scomunica ex natura per questo movimento la democrazia cristiana viene rifondata quanto il popolo aveva dimenticato quindi muore il partito popolare perché era un movimento fallito e sorge questa democrazia cristiana con la guida del famoso De Gasperi il quale anche egli si dimostrò un traditore del cristianesimo purtroppo le persone non le sanno queste cose non se ne rendono conto all'epoca certamente anche tanti ecclesiastici furono ingannati ma dobbiamo considerare che noi siamo nel periodo in cui la rivoluzione modernista all'interno della chiesa aveva preso già il sopravvento Papa Pio XII e un piccolo gruppo di gerarchi all'interno della chiesa tentarono in tutti i modi di porre un argine a questo movimento ma purtroppo ormai a livello filosofico a livello concettuale mentale anche tanti uomini di chiesa erano cascati in questa trappola e quindi la democrazia cristiana di De Gasperi movimento modernista di modernismo sociale infatti tante volte la chiesa ha condannato ed è riuscita a distruggere per molto tempo il modernismo in ambito dogmatico ma purtroppo il modernismo sociale è sempre esistito ed è lì che poi ha avuto la sua rinascita la sua rimonta basti pensare che se non ricordo male alle elezioni comunali sui primi degli anni 50 a Roma un'elezione importantissima Papa Pio XII giustamente proponeva un'alleanza fra la democrazia cosiddetta cristiana e il partito monarchico che era quello che più si avvicinava ai valori cristiani in politica ai valori cattolici ma De Gasperi rifiutò De Gasperi rifiutò fu cacciato dal Vaticano e che io sa che a Pio XII non volle mai più incontrarlo quindi partiamo da questa genesi una genesi sconfortante terribile per chi crede nel cattolicesimo ma anche per chi semplicemente crede in una società ordinata perché dove non c'è vero cattolicesimo in politica la società diventa disordinata in un modo o in un altro c'è qualche disordine che ti porterà prima o poi alla rovina la perfezione non è ottenibile scansando Cristo dalla politica per non parlare poi del pensiero laicista quindi della cosiddetta laicità dello Stato l'abbiamo già menzionata in passato è inutile parlarne cioè oggi molti signori pretendono di risolvere i problemi della nazione con la laicità quando in realtà è la laicità che ci ha portato a questi problemi cioè io vorrei risolvere vorrei sanare delle conseguenze usando la medesima causa che le ha cagionate siamo nell'ignoranza perché nell'ignoranza colpevole per chi pretende di fare politica nell'ignoranza ingenua per chi purtroppo da semplice lettore ha altro da fare che studiare queste cose casomai fa il panettiere fa la madre di famiglia non ha tempo per seguire queste cose io mi fido di chi per professione fa quello e dovrebbe conoscere determinate tematiche ciò non accade perché noi abbiamo dei pozzi di ignoranza che sono lì quindi tornando al non expedit al non conviene votare non conviene candidarsi non conviene mischiarsi in questa situazione tu dicevi ci sono dei partiti dei neomovimenti che pretendono di essere cattolici di portare avanti l'ideale cattolico ma come in commistione con comunisti con atei con laicisti peggio ancora di quello che accadde al partito popolare di Dosturzo perché almeno il partito popolare di Dosturzo o quantomeno nelle apparenze come pure la democrazia cristiana si configurò contraria pubblicamente a determinate ideologie contraria pubblicamente a determinati partiti e questo gli portò tanta fortuna a livello elettorale oggi non si ha neanche più questa consapevolezza quindi io intendo fare una cozzaglia non la chiamo così pubblicamente come posso chiamarla posso chiamarla un'adesione un'unione di intenti no no ma si chiamano anche alleanze un'alleanza qualcuno dice non è che noi però insomma non escludiamo delle alleanze che è un termine che suona bene all'orecchio di chi non capisce facciamo le alleanze con chi e si voti con quale finalità con quali compromessi rinunciando a che cosa si votino loro si votino loro si potrebbe dire tu sei disfattista si potrebbe dire tu come pensi di cambiare le cose si potrebbe dire tu sei egoista non è così in verità ognuno di noi ha una coscienza in base alla nostra consapevolezza noi dobbiamo rendere conto e saremo giudicati da dio per ogni singola azione della nostra vita maggiore è la consapevolezza su determinate tematiche su ogni aspetto dell'esistenza umana e della conoscenza più aspro più duro più giusto sarà il giudizio di dio nei nostri confronti quindi è tutt'altro che un discorso egoistico è un discorso intanto intelligente ho una determinata consapevolezza ho determinate conoscenze la mia coscienza dovrà rispondere a dio in maniera molto più analitica quindi su questo argomento io prendo la scelta giusta quella che sicuramente piace a dio perché certamente dio non mi dice di votare il movimento 5 stelle o il partito democratico forza italia o fratelli d'italia o qualsiasi altra organizzazione movimento di neonascita che mi lanta di portare avanti tematiche cattoliche ma come in un contesto non cattolico e in cui molti principi del cattolicesimo a partire dal primo dal principale la regalità sociale di cristo sono traditi di natura proprio per essenza stessa di questi movimenti no ma poi poi carlo scusa aggiungo qualcosa vorrei terminare sì sì vai perfetto quindi discorso riguardante la propria anima e il proprio rapporto con dio ma anche un discorso altruistico anzi un grande discorso di altruismo in cui io ti dimostro dati alla mano come facesti tu con il Movimento 5 Stelle che non è il caso di votare non è il caso di votare perché faranno male noi tanto ci troviamo adesso in guerra con la Russia diciamolo chiaramente tanto ci troviamo con un cappio al collo dalla cosiddetta troica perché il Movimento 5 Stelle ha votato tutte quelle misure tanto noi siamo stati privati della libertà con il Green Pass tanto ci è stato imposto un siero genico sperimentale perché? perché c'era il Movimento 5 Stelle quindi onore a Elia che capì in anticipo questa cosa disonore a chi non lo capì e adesso io spero che l'astensionismo raggiunga dei livelli record perché questi signori non sono degni di prendere neanche un voto secondo quello che è il parere del catechismo della Chiesa Cattolica è ovvio è semplice basta studiarlo non sono un profeta che poi sarebbe l'unica vera spallata a questo sistema e non voto per certi versi io non mi sporco le mani punto io mi chiamo fuori non è vero di non fare niente non andare a votare fare qualcosa di importante io non vi do forza io non do il mio sostegno io non vi do il mio consenso ma bisognerebbe ignorare anche come è stata fondata questa Repubblica che cos'è realmente questa democrazia che cosa sono realmente le Costituzioni cioè allora è tutto l'intera l'intera impalcatura che ormai che ormai non è credibile cioè questo è solo l'ultimo tassello queste sono le ultime puntate ma già già dal sapere come è stata fondata questa Repubblica che cosa sono realmente le Costituzioni come funziona l'intero sistema la falsa tripartizione dei poteri per dare una parvenza ma sono cose veramente ma nemmeno un bambino ci crede più come cavolo si fa ad andare al voto credendo veramente di cambiare le cose cioè ma stiamo scherzando le cose si cambia con avendo coscienza di qual è realmente la situazione e chiamandosi fuori io non voglio sporcarmi le mani con queste cose da cattolico non da cattolico perché lo può fare anche un non cattolico cioè non è che riguarda solo i cattolici hanno delle motivazioni in più ma anche chi non è cattolico dovrebbe capire questi concetti fondamentali cos'è successo andando a votare in questi anni assolutamente niente in realtà c'è ancora qualcuno che è convinto che effettivamente ci sono tanti partiti io in un altro video ho detto c'è un partito solo c'è il partito del voto e c'è il partito del non voto sono tutti uguali è una finta contrapposizione per fare in modo che la gente si schieri e che poi faccia il tifo come allo stadio tutto là serve solo a questo ma alla fine chiunque va gli viene dato il copione tu queste cose devi fare punto è sotto dettatura cioè tutto è sotto dettatura che ci vada Tizio ci vada Caio ci vada il centrodestra il centrosinistra il copione è quello punto in una conferenza che feci tempo fa disse chi paga il pifferaio decide la musica e quindi chi ha in mano il vero potere ottenuto anche con la stampa della moneta decide decide programmi decide partiti decide chi vale chi scende chi deve essere messo alla gogna chi invece no chi deve essere portato su chi deve essere beatificato tra virgolette questo è il sistema in cui ci troviamo sì sì e non sei e non sei disilluso non sei affatto disilluso anche perché io credo che dopo l'esimile tradimento del movimento 5 stelle io credo che le persone avranno compreso facilmente quello che tu dici è della Lega no ma la cosa più strana anche della Lega no ma c'è la cosa più strana che adesso si presenta questo centrodestra che in realtà il centrodestra forse Italia e la Lega hanno appoggiato il governo Draghi ma e c'è qualcuno che l'ha appoggiato facendo finta che non l'appoggiava ma allora ma ci si rende conto in che grande sceneggiata noi ci troviamo e si ha ancora l'illusione di andare a votare cioè è qualcosa che io trovo veramente sconvolgente sotto certi aspetti ma comunque vabbè poi ognuno ha a che fare giustamente con la sua coscienza ciascuno faccia le sue scelte pigliandosi le proprie responsabilità e attenzione io scusami posso dire una cosa sì vorrei che questo principio non si riduca solo ed esclusivamente a una questione individuale attenzione il nostro rapporto con Dio il non peccare è un è un qualcosa che si ripercuote sull'intera società certo certo sull'intera società sono d'accordissimo è fondamentale ribadirlo certo certo beh c'è proprio la prima pagina di un libro il catechismo del catechismo nei diritti sociali mi pare dell'editore Solfanelli che parte proprio con quello che tu dicevi adesso lo spiega molto bene comunque lasciamo stare queste cose veniamo invece alla tua attività di di editore che mi pare sia molto produttiva negli ultimi tempi tu piano piano senza dire niente alla fine stai pubblicando a raffica mi pare no cos'è successo come hai tutta questa produttività in questi tempi perché per un periodo che sta aspetta che apri che forse c'è poca luce adesso prima c'era troppa luce ho chiuso e adesso ce n'era poca prego no perché per un periodo ho deciso di ridedicarmi a questo sacrificando la formazione in ambito di sicurezza informatica che mi tirava via tanto tempo anche perché lì devi essere in continua formazione però ho detto vabbè adesso sono più di un anno che mi sto dedicando solo alla professione visto che ho dei ritagli di tempo che dedico alla formazione continua in tematiche inerenti il mio lavoro adesso per un periodo dovrò sacrificare quelle per rimettermi a scrivere quindi ho utilizzato alcuni vecchi opuscoli che venivano pubblicati nella collana SOS che erano presenti in tante case prima del Vaticano II dei vecchi opuscoli che sono sempre attuali li ho rielaborati ne ho pubblicato uno che riguarda la teosofia un altro che riguarda l'eutanasia e in ultimo ne sto scrivendo uno che riguarda l'evoluzionismo tutti i mini da niente insomma quindi roba leggera molto molto belli per me sono tematiche che mi appassionano che mi interessano tanto sai c'è chi ha delle preferenze per studiare che ne so la matematica a me piacciono di più la teosofia riferendosi a Madame Blavatsky per caso anche sì si comincia si comincia da lei dai suoi pessimi rapporti con gli uomini e con la società più in generale per poi passare alla divulgazione di questo pensiero di questa cosiddetta filosofia che in realtà di filosofico vero ha ben poco cosiddetta anche religione secondo alcuni che però di religioso ha solo cose negative e fino ad arrivare poi alla diffusione con i fallimenti storicamente documentati di questa ideologia nella società e soprattutto in ambienti importanti purtroppo in ambienti dove si prendevano le decisioni decisioni anche a livello politico spesso e volentieri condizionate da un'ideologia perversa come quella teosofica molto triste vedere come persone intelligenti piuttosto che accettare la verità piuttosto che piegare le ginocchia davanti a Gesù Cristo vanno sì alla ricerca di risposte anche di risposte impegnative da un punto di vista di studi personali che però sono quelle sbagliate e tutto ciò si ripercuote ovviamente non solo su semplice individuo ma si ripercuote su tutta la società soprattutto se questi soggetti sono soggetti altolocati che ricoprono postazioni di comando ruoli di potere sì sì io so di cosa parli conosco la teosofia perché tanti 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 anni fa anch'io ho fatto questi errori mi ero letto queste cose avevo un sacco di libri vabbè ci arrivi tardi poi a capire ma comunque ci arrivi non è che ci sono arrivato tardissimo ma comunque ci sono passato quindi quando qualcuno dice accusandoci voi siete dei creduloni voi siete che non so dei fanatici pensa che qualcuno abbia letto solo il catechismo e basta invece no molte volte si è passati come anche nel mio caso attraverso delle esperienze delle letture che a maggior ragione ti hanno fatto poi capire delle cose importanti perché se un qualche valore ce l'hanno quelle cose è proprio quello di farti capire poi da che parte stanno come stanno realmente le cose a me a me era servita a quello e lo dico senza nessun nessun problema quindi le conosco quelle cose le conosco anche bene ecco perché mi fa piacere che tu ne abbia parlato perché queste cose ancora oggi si stanno diffondendo sempre di più in maniera diversa magari con una terminologia diversa magari sono resi accattivanti attraverso che ne so altre parole altri modi eccetera ma sono sempre le stesse i concetti sono sempre quelli si sai è un po' come per i virus i virus una volta che vengono allo scoperto si può tentare in ogni modo di contrastarli però è veramente raro che l'uomo riesca ad eliminarli totalmente questi virus della teosofia perché non è solo uno ne sono tanti poi sono andati pian piano diffondendosi nella società soprattutto c'è stato un grande ritorno a partire dagli anni secondo me dagli anni 70 80 del 1900 perché tanto si è fatto sempre in ragione anticristiana anticattolica quindi per scansare Cristo da ciò che è diciamo metafisico e dalla società più in generale aggiovamento di tante tematiche collegate alla spiritualità cosiddetta orientale ma nacquero proprio delle case editrici specifiche per questo e ne sono nate altre nel corso del tempo ricordo che c'era una vasta ricordo all'epoca c'era una vastissima bibliografia e adesso non conosco attualmente lo stato del fenomeno però io ti posso dire che ci sono un sacco di case editrici potrei farti nome e cognome ma non nel caso si è passati attraverso appunto queste case editrici che hanno una grande capacità di divulgazione la spiritualità questa spiritualità cosiddetta orientale o sedicente tale e poi si è fatto tanto con la propaganda dei viaggi astrali della metempsicosi esatto meglio conosciuta come reincarnazione tutte tematiche che hanno affascinato hanno affascinato soprattutto quelle persone che temono la morte temono la morte perché essendo consapevoli di condurre una vita grama una vita stracolma di errori e di gravi torti soprattutto nei confronti del prossimo hanno cercato in tutti i modi di dare una risposta ai loro problemi dell'esistenza però scegliendo scegliendoli e sbagliate in questa dinamica tante persone in buona fede purtroppo ci sono cascate questo libro già è pubblicato Carlo si si è pubblicato si può comprare su Amazon morti saranno casomai contrari a questa mia scelta però con Amazon purtroppo c'è una grande comodità dal punto di vista logistico quindi o così o niente nel mio caso perché diversamente avrei dovuto stampare tutti i libri farli arrivare a casa o nel deposito quotidianamente recarmi alle poste a fare le spedizioni e non mi è più possibile mi è impossibile quando lavori dalle 8 di mattina alle 8 di sera per quanto riguarda il libro sull'evoluzionismo ci dici qualcosa allora il libro sull'evoluzionismo lo sto ancora scrivendo sono arrivato adesso credo alla pagina 50 60 parlerà sia dell'evoluzionismo da un punto di vista pseudoscientifico perché l'evoluzionismo non è mai stata una teoria scientificamente fondata quindi nella sua storia quindi sia da un'analisi da un punto di vista storico che utilizzando degli scienziati quindi le ricerche di scienziati valenti e universalmente accreditati quindi anche la demolizione dal punto di vista scientifico per poi analizzarne in sé nella sua essenza il problema morale che discende dall'evoluzionismo e anche quello metafisico religioso perché nel momento in cui tu vai a sponsorizzare un'ideologia che esclude che pretende di escludere a priori una creazione quindi da parte di un essere intelligente che noi sappiamo essere dio beh allora ne consegue tutto ne conseguono tutta una serie di mostruosità che ti portano alla società contemporanea ecco l'evoluzionismo in quanto tale è una dottrina pseudoscientifica strumentale strumentale al pensiero liberale che poi è andato a dominare la società quindi da un punto di vista socio-politico vengono affermati dei principi sbagliati tuttavia l'essere umano che non è stupido aveva bisogno anche di una risposta da un punto di vista scientifico quindi hanno inventato di sana pianta questa questa ideologia questa fede certo questa fede nella cosiddetta macroevoluzione che doveva servire ad allontanare anche da un punto di vista meramente di curiosità l'uomo da tutto ciò che è la creazione il creato e quindi non il grande architetto dell'universo ma colui il quale ha creato tutto Dio compresi noi e attenzione quando si scrive di evoluzionismo per confutarlo spesso e volentieri si crea un binomio quindi tu stai parlando dell'evoluzionismo con parole di condanna quindi sei un creazionista no attenzione io non scrivo di creazionismo ok bene noi sappiamo come si è svolta la creazione abbiamo delle conoscenze che ci vengono tramandate dalla sacra scrittura e dal magistero della chiesa come ben spiega Papa Pio XII non dobbiamo non abbiamo tante volte la la capacità le informazioni tali per poter investigare su quello sulla creazione in sé noi sappiamo sicuramente di dover credere nel monogenismo e questo è un dogma è un dato di fatto quindi noi ve discendiamo tutti da Adamo ed Eva nella loro forma che conosciamo umana anche più perfetta della nostra perché non avendo conosciuto il peccato in principio loro sicuramente avevano una perfezione intellettiva quanto meno notevolmente superiore a noi per non parlare poi di quella fisica perché il male la morte intervengono a causa del peccato quindi questo è certo poi tutto il resto ne possiamo parlare da non confondere quindi una confutazione all'evoluzionismo con la classica confutazione creazionista di matrice protestantica attenzione quindi mettiamo bene i puntini su lei quindi tu arrivi anche a dimostrare l'impossibilità dell'evoluzione quello non lo dimostro io quello è stato dimostrato scienziati ma poi soprattutto con la con la moderna genetica che all'epoca di Lamarck di Darwin e di tanti altri fenomeni della pseudoscienza non esisteva la attuale conoscenza in materia di genetismo dimostra senza ombra di dubbio che l'evoluzionismo come ci viene raccontato su alcuni manuali quindi quello che i più immaginano per evoluzionismo è totalmente falso ma è impossibile è impossibile sì ma ovviamente chimicamente biologicamente impossibile impossibile ma come anche la paleontologia ha dimostrato esatto la paleontologia poteva avere delle difficoltà quando non aveva mezzi economici e anche mezzi ingegneristici per fare determinate scoperte ma la paleontologia degli ultimi cento anni ha dimostrato che non esiste alcun anello di congiunzione ma è ovviamente stata una dimostrazione così tanto per farla ma i veri paleontologi non hanno mai creduto in queste buffonate e ricordiamo che noi abbiamo avuto all'interno purtroppo della chiesa un grande buffone un modernista telar de chardin probabilmente era gesuita se non sbaglio inscenò il ritrovamento di uno pseudo uomo anello di congiunzione per poi rivelarsi il falso per quello che era ma sosteneva tante altre cose quel personaggio non vorrei diffamare un morto se non ricordo era lui che ha avuto un ruolo estremamente importante quindi ho questa truffa ma come poi anche il libro esile perché non è un trattato è un compendio sarà di 150 pagine secondo me alla fine in formato A5 quindi anche tascabile riporta tanti episodi che la stampa dell'epoca riportò poi definì appunto delle vere e proprie truffe quindi tutti questi signori che mi lantavano di aver fatto scoperte funzionali all'evoluzionismo erano fondamentalmente dei grandi truffatori alcuni probabilmente in buona fede chi può dirlo altri ci hanno lavorato una vita ma la macroevoluzione è scientificamente impossibile esatto poi per quanto riguarda la microevoluzione se ne può parlare ma non è il mio ambito non è il mio ambito perché io non sono uno scienziato non sono un genetista non sono un paleologo quindi mi chiamo fuori da queste scoperte l'evoluzione ma già è una bufala si direbbe oggi è una fake news ma anche secondo la legge dell'entropia genetica per esempio cioè tutto va verso la distruzione non verso il miglioramento esatto sono leggi fisiche come anche le leggi della termodinamica dimostrano la falsità della teoria dell'evoluzionismo del macroevoluzionismo insomma l'ABC è una teoria che poi non è una teoria è una è una falsità che però è servita a tantissime cose continua a servire a tantissime cose non solamente a negare l'esistenza di Dio in qualche modo ma anche a a giustificare se vogliamo la competizione anche e tante altre cose non voglio dilungarmi anche perché veramente ci piglierebbe molto tempo ma i migliori che sopravvivono quindi che man mano che le cose che si va avanti le cose migliorano c'è un miglioramento con l'andare avanti è servita a tantissime cose questa teoria a sganciare a sganciare l'uomo dalla verità metafisica basti pensare che Malthus un altro squilibrato che teorizzò teorizzò che al mondo ci sarebbero stati troppi uomini e quindi che bisognava ridurre l'umanità numericamente lui se non sbaglio parlò che sopra un miliardo non ci sarebbero state le sostanze si diciamo l'ispiratore di Cingolani che per verità rivelata ha deciso che un tot di uomini sul pianeta Terra non ci possono essere Malthus si rifà anche alle dottrine cosiddette tali di Darwin è parte dell'ideologia razzista come noi la conosciamo nel secolo diciannovesimo nel secolo ventesimo deriva da un misto di martusianesimo neo-martusianesimo e neo-darwinismo è da lì che proviene sono d'accordissimo sono d'accordissimo allora per questi tuoi libri come si fa per averli? e poi ho pubblicato già il libro sull'eutanasia già il libro sull'eutanasia perché sono tre sono tre teosofia e già si può già acquistare su Amazon o anche sul sito di Sursum Corda per chi non vuole comprarlo da Amazon ho una piccola scorta da lì riesco a fare qualcosina poi il libro sull'eutanasia che è già stato pubblicato è già in distribuzione sempre tramite Amazon o qualcosina tramite il sito di Sursum Corda come posso e poi questo sul sul cosiddetto evoluzionismo che poi verrà pubblicato in futuro e spero di riuscire a finire di scriverlo per il mese di agosto qualche giorno di ferie in questi giorni questo momento ce l'ho li ho e quindi potrei dedicarmi a quello triste triste compendio quello sull'eutanasia veramente triste perché lì vado a ricercare sempre grazie agli autori che scrivevano questi preziosi opuscoli la storia dell'eutanasia nell'umanità quindi sin addirittura dai periodi precedenti alla venuta di Cristo come veniva presentata come veniva mascherata a che cosa serviva quali erano le veri ragioni chi la praticava ed è sempre stata una misura finalizzata a colpire le persone più deboli più deboli o fisicamente o psicologicamente sia come età che come malattie ed è direttamente collegata anche all'eugenetica nazista che da sé viene anch'essa dal neodarvinismo e dal neomartusianesimo è argomenti molto tristi quando riscrivi certamente l'anima non ne gioisce ecco va bene va bene io ti ringrazio se c'è altro da aggiungere altrimenti ci salutiamo e alla prossima quando sarà non lo sappiamo quando ci sarà la possibilità aggiungere altro Carlo ci salutiamo qui no no io ritengo che quello che dovevamo dirci nel nostro piccolo l'abbiamo l'abbiamo detto e niente auguro buone vacanze a tutti adesso il 18 di agosto 2022 casomai qualcuno è al mare o in montagna se siete in ferie buone vacanze se state lavorando coraggio siamo sempre a testa alta cerchiamo di fare il nostro dovere e occhi aperti perché ovviamente i lupi travestiti da Agnelli sono tantissimi e l'aggiungo io mi prendo la responsabilità e non andate a votare va bene questo l'aggiunto io alla fine ma no ma tanto io non sono più un elettore ormai lo sarò casomai di diritto ma non frequento le urne da molto tempo va bene va bene va bene ok dispiace che dobbiamo fare queste cose via web perché poi noi io sono nato in un paese abbastanza vicino dove abiti tu è un'altra cosa incontrarsi personalmente l'abbiamo anche fatto chiaramente cambia tutto però insomma visto che non è possibile allora utilizziamo questi mezzi che io non amo però cerchiamo di cerchiamo di utilizzarli al meglio quantomeno ed è già qualcosa va bene Carlo ti saluto ancora e alla prossima ciao 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 io buonasera buonasera a tutti Dio ci benedica